Il progetto Una Rete per la Formazione di Qualità nasce come idea di costituire un'opportunità per la formazione delle pubbliche amministrazioni nonostante i tagli previsti dal decreto legge 78. Il progetto si avvale di due linee operative o azioni trasversali che supportano il raggiungimento dei due obiettivi che sono la costituzione di una comunità di pratica fra gli operatori della formazione delle pubbliche amministrazioni e il portale della formazione. Questo in grandi linee è il progetto, il progetto è molto innovativo perché non è un corso, non è un progetto formativo ma è un laboratorio aperto che vede la partecipazione degli addetti alla formazione ma anche delle università ma anche delle scuole di formazione e quindi è un progetto che nell'arco temporale di tre anni prevede di portare l'amministrazione sicuramente a un miglior livello di pianificazione e di valutazione della formazione. L'idea di legare i piani formativi ai piani della performance fa sì che la formazione sia utile al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione, obiettivi strategici e operativi dell'amministrazione.